Grande Hi man You ready? Possiamo dire addio alla possibilità di creare un vaccino Quindi rilassati pure Però è un ignorante questo, perché ha fatto sto casino? No Quella fa muu Che ho? Ma c'è ancora gente Avete visto che adesso sono di livello 8 Anche se di cecchino non crepano Attenzione, temperatura in aumento Rilevati livelli elevati di diossido di carbonio Oh oh, sembra che ci sia un incendio nell'edificio Passo le planimetrie all'AISA che in caso ti servissero Calcolo percorso per i comandi del sistema antincendio di emergenza I rilevamenti indicano un radiofaro echo Mia figlia vuole la tanzanite, ce l'avete per caso? Oddio, guarda che amore questo orologio, stupendo Mi spiace ho la carta di credito fuori uso Non c'è problema, ecco a lei, 9 e 20 diretti Non ho capito... Non ho capito questo Questo attiva il sistema antincendio per spegnere le fiamme mamma andi qua merda ma io sto crepando macchie attenzione sistema antincendio di emergenza attivato bravo questo è una bomba oh ottimo tu va avanti continuo a cercare nelle planimetrie del sistema e dico all'isac dove sono i controlli ricorda gente devi prendere le banconote quelle con il virus originale controlla ovunque registratore di cassa donazioni per i bambini barattoli delle mance qualunque posto dove potrebbe esserci del denaro si vede una sega raga great man perchè la gente rusha così cioè non osserva la l'ambientazione sembra che bisogna correre a tutti i costi per poi finire i giochi e dire cazzo è durato due minuti questo è molto male molto male qua ad esempio qua magari c'è qualcosa tipo qua dentro non è stato contaminato dal virus cioè c'è sta roba qua che del loot è questo? questo è un video è stato un incubo andiamo prima che ci trovino quei pazzoidi scansione l'oggetto non è stato contaminato dal virus ok l'oggetto non è stato contaminato dal virus recupera le banconote dove cacchio dove andò? dove cacchio bisogna andare? ah di qua qua c'è del loot eh no ma me lo prendio io così impari a rushare ok 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 non sei in una buona posizione non sei in una buona posizione non sei in una buona posizione bravo io scoffo avanti e indietro come un pirla speriamo che i purificatori non bruciano tutto prima che trovi quelle banconote succederebbe anche senza di loro perché il calore estremo distrugge il dna sopra i 90 gradi iniziano a rompersi i legami covalenti la doppia elica inizia a disfarsi come gelato al sole un motivo in più per tenerli a bada agente come dicevo non sentirti sotto pressione c per andare sopra ok non è che sto molto bene dove andare però no mi ha salvato delle fiamme prima quindi io ne sono grato vediamo qua l'oggetto non è stato contaminato dal virus non contaminato ma dov'è l'altro qua c'era un altro cosa da raccogliere ah perchè magari è in un altro piano it's probably it's down man attenzione pericolare incendiario rilevato stando alle planimetrie dovrebbe esserci un controllo di emergenza più avanti oh farà ma ma oh ma che cazzo di problemi c'ha sto tizio devo premere l'interruttore attenzione rilevato un aumento del contagio virale ci siamo dovrebbero esserci delle banconote infette nelle vicinanze occhi aperti cerca di non leccarle ok ma che battuta è cerca di non leccarle ah qua però è chiuso dalla serranda attenzione pericolo incendiario rilevato ho trovato un altro controllo manuale per il sistema antincendio invio le coordinate all'ISAC zona contaminata filtro 1 richiesto dai attiva il tuo interruttore così sei contento bravo attiva attiva oh adesso si che è che è attivato attenzione hai lavati i nemici nelle vicinanze e vabbè ma questo qua è scontati come la merda dai ah devo difendere raga devo difendere cosa devo difendere e vabbè vabbè eccoli la merda oh quanti ne stanno arrivando ora ok fuori la testina ah stupido stupido bot e poi non è un insulto è un bot ecco lì dai ok la tira fuori quando ricarico eh guardate ma anche lui si divertono proprio a farsi esplodere da sole ecco avviciniamoci va ma questo muore domani mattina a costo di sembrare ripetitiva gente ci servono quelle banconote e a temperatura ambiente non arrosto se sono arrosto la nostra doppia elica ci saluta ah ho capito e possibilmente cerca di non farti uccidere di agenti arrosto non ce ne facciamo nulla ma simpaticone incredibile attenzione i rilevamenti indicano che l'aria è contaminata attenzione contaminazione virale confermata qua c'è del loot tieni gli occhi aperti agente abbiamo un rapporto dalle vedette della jtf fuori dall'edificio mentre eri di sopra sono arrivati altri purificatori tienili a distanza te l'ho già detto le banconote ci servono in perfette condizioni più o meno stai uscendo dall'aria contaminata ok tromba dell'ascensore vabbè io se me lo permette ah si posso fare un'altra ricarica perfetto che non si sa mai aspettiamo manga scusa ma come come hai fatto? oh si scendo pure io qua un attimo ah no ma questo è nuovamente il piano terra ebbè ah di qua eccoli ecco le ora faccio il giro da questa parte se li inchiappetto per bene attimo niente non mi esplodono oh merdo ok ok questo qua è il boss si suggerisce di colpire la riserva chimica portatile io ci provo a colpire la riserva ma il problema è che nel frattempo ce da un po' il culo eeeh vabbè nooo man i'm dead fuck attenzione un agente della squadra ha bisogno di aiuto immediato io ah ma anche lui porca troia nooo kill the other guys man and run away from the boss eh ma qua sono bloccate però ok ok shoot the boss a little bit good man attenzione temici in arrivo ok is down good ok 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 buono qua ci la sei giocata bene eh come a che ciappa è questa come a che ciappa è questa bello sono colpita gente scopare delle banconote con il virus originale in quel posto era come cercare un ago in un pagliaio eppure ce l'hai fatta non vedo l'ora di metterci sopra le mani ah ma gente il prossimo giro lo offro io semmai ci sarà un prossimo giro buona raga bella avete visto raga ci sono tipo missioni qua nella zona nera e adesso credo siano pvp ma non ne sono sicurissimo però sarebbe carino provare a farle adesso ci sarebbe praticamente da tornare indietro e andare qua per chiudere la missione credo ok che questa qua perfetto quindi bella man are you going? are you going? no ok ehm almeno andiamo a chiudere la missione nel frattempe è giorno wow luce finalmente guardate che bello come ha fatto bene mi sa che se ne sta andando credo davvero spettacolare lui secondo me vuole provare a fare vuole provare a fare questa missione qua ma potremmo anche provarci lui vuole fare questa missione qua cosa fa? ingresso nella zona nera oh se ne è andato è entrato nella zona nera ma è ancora con me raga proviamo ad entrare in questa zona nera trasmissioni turbate solo comunicazioni a corto raggio attenzione corrente interrotta backup attivato sistema riavviato attenzione stai entrando nella zona nera e quindi? ma raga li bello no man steward for us level 14 fuck let's go man it's too hard oh man I don't know how come back fuck raga non so come tornare indietro beh seguiamo questo dai eh questo qua ci va nel culo don't shoot man we need a way out peccato si faccia uscire da qua raga ma che cavolo si fa uscire da qua posto di blocco impossibile spostamento ingresso ma io devo io voglio uscire io voglio uscire da qua cioè muoio come una merda in sta perché ho seguito questo pirla eh non si riesce ad uscire eeeh provo a raggiungere dove cacchio è andato raga io lo seguo spero che mi porti ad una via d'uscita non lo so proviamo secondo me abbiamo fatto una minchiata ma una di quelle minchiate grandi come una casa ecco io scappo raga questo muore male merda 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 sono già morto lui è morto eh come in man trovate come in man come in man come in questa roba oh ma in cazzo mi tieni pronto per mollare ma certo che mollo ma subito rientro posto di blocco posto di blocco ma io perché sono andato incasinarmi qua dentro la zona nera la parte più pericolosa è di manattan ma lì questo qua io mi sono ritrovato subito qua dopo essere morto ma lì troverai alcuni dei bottini migliori nella zona nera attivo il pvp attiva la tua filiazione di visione diventa un traditore per attaccare gli altri giocatori l'invenzione di altri traditori è ricompensata con una taglia i giotti trovati nella zona nera sono contaminati e non essere estratte per poterli usare se muore le perderà gli altri giocatori potranno recuperarli ok quindi se perdo solamente i giotti che recupero nella zona nera avvia il protocollo traditore raggiungi nuovi livelli di caccia all'uomo figo però raga in quest'affare il futuro della generale indicano che l'area è sicura ok ma io voglio uscire da qua raga uscire da questa fatuta zona user cancello attenzione stai per uscire dall'area sicura eh ok ma sono sempre nella zona nera no ma sono uscito ma un attimo fatemi capire un attimo di qua ritorno dove ero prima se io invece vado di qua trasmissioni disturbate solo comunicazioni a corto raggio attenzione ok qua torniamo torniamo nella zona nera scopri la zona nera abbandonando l'area sicura niente raga io torno di dietro però ci ritorno qua qua ci voglio ritornare attenzione stai per uscire dall'area sicura qua siamo dove eravamo prima solo che noi avevamo scavalcato di là e non riuscivamo a tornare indietro mentre invece adesso si può passare anche di qua ok allora niente raga concludiamo il video con la vabbè qua rapporto cose ci dirigiamo qua ci vediamo il filmato finale così sblocchiamo anche la cos'è sta roba oggetto collezionabile così sblocchiamo anche le nuove ci viene difficoltà cosa guarda bevanda vabbè allora e sblocchiamo anche le nuove parti del dipartimento e niente insomma ma qua ci sono delle bombe bene gente siamo ritornati al dipartimento tecnologico e al dipartimento tecnologico se alla base operativa quella vabbè che abbiamo visto nei primi video c'è da parlare con paul ok quindi adesso attiviamo anche il dipartimento tecnologico ehi non amo le smancerie ma mi hai aiutato quindi grazie so che da me vuoi più che un ringraziamento per avermi salvato il culo un salto di qualità per questo posto standard governativo eh vedo che il livello è ancora talmente basso che non crea problemi neanche ai bambini se vuoi la qualità scegli il privato l'ho imparato a bassora già la città non va avanti solo con le buone intenzioni corrente acqua tutto il necessario ci hanno già provato prima alcuni dei vostri sono scomparsi quando è scoppiato il casino ho delle teorie al riguardo quando sei fuori a riattivare la corrente dai un'occhiata vedi cosa scopri magari è stato il virus o i bruti oppure si è aperto un buco al centro della città e sono stati tutti risucchiati e chi lo sa è già successo la città si è presa mia moglie sono vivo per miracolo si dice che un pessimista è un romantico desilluso beh chiunque l'abbia detto è un coglione vai vedi che riesci a scoprire ti dirò cosa collegare non farti mangiare anche tu da questa città va bene agenti scomparse ah questi qua sono gli agenti quelli lì da che dove cercare va bene ci vediamo ok user portatile adesso mi farà attivare il primo potenziamento distanza controllo comunicazioni sono disponibili dei potenziamenti come tutte le altre sezioni ok potenzia ok per me può andare devo dire che ci sai proprio fare agente ok può attivare nuova abilità perfetto la torretta schierate la torretta stanzionare che attacchi i nemici vicini finché ne distrutto la batteria non si esaurisce perfetto ok va bene va bene così raga io ora possiamo monitorare l'infrastruttura riscaldamento acqua e corrente molto bene mi pare che abbiamo fatto tutto credo vabbè niente ci vediamo al prossimo video e poi nel prossimo adesso io qua devo fare mi dice che devo andare qua a fare delle missioni secondarie cose qua adesso mi sbroglio un po' di pratico uccido un po' di gente poi nel prossimo video andiamo a fare praticamente questa che è di livello 10 che dovrebbe essere quella più semplice alla mia portata niente quindi bella raga ci vediamo il prossimo video bella